In occasione della presentazione del volume Archivi di Pietra avvenuta al Pantheon degli Uomini Illustri in piazza San Francesco a Pistoia, il sindaco Alessandro Tomasi e il direttore degli uffizi di Firenze Eike Schmidt hanno parlato della possibilità degli uffizi diffusi anche a Pistoia. Sicuramente abbiamo avuto un'ottima conversazione con il sindaco oggi pomeriggio per portare avanti questo progetto anche per Pistoia. Abbiamo realizzato su tutto il territorio toscana oramai quasi una cinquantina di progetti e continuiamo anche in bassa stagione. Per quanto riguarda Pistoia abbiamo ipotizzato una mostra dedicata all'unico direttore pistoiese che gli uffizi hanno mai avuto, Tommaso Puccino, tra sette e ottocento, che tra l'altro era anche un grande difensore del patrimonio artistico italiano. Probabilmente era proprio l'unico direttore degli uffizi non fiorentino prima di me. Con il direttore ne stiamo parlando e abbiamo trovato anche degli spunti di legame tra Pistoia e gli uffizi che potrebbero essere sviluppati e potrebbero portare anche qui delle opere. Quindi ne stiamo parlando da tempo e vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo.